I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell'Aquila, assieme ai militari della compagnia di Pescara, sono riusciti a rintracciare anche il sesto componente della banda, che era dedita, come si ricorderà, ai furti all'interno delle abitazioni appena ristrutturate del capoluogo di regione in centro storico. L'arrestato è anche lui di nazionalità rumena, era stato ricercato in seguito all'operazione Reconstruction ed è stato ritrovato nel comune di Sportore dai carabinieri del nucleo operativo comandati dal tenente Maximiliano Papale. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio di lunedì, quando le attività investigative hanno permesso di localizzare il ricercato con certezza assoluta. L'uomo è stato bloccato nei pressi della sua abitazione, dove aveva appena fatto rientro in seguito ad un soggiorno in Romania. L'uomo, autore di diversi furti avvenuti nel capoluogo di regione, e domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria dell'Aquila.